L'esibizione di 10 grandi artisti sul palcoscenico di Piazza del Popolo per 10 principi fondanti la sicurezza sul lavoro, quelli del Decalogo della Carta di Urbino elaborato dall'Osservatorio Olympus dell'Ateneo Urbinate. Un grande show per un grande messaggio, quello di Safety Love che martedì sera è stato l'evento di apertura del Festival Internazionale per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, organizzato per la prima volta a Pesaro dalla Fondazione Rubestriva. Ad aprire lo show è stato Leo Gasman in una passerella di Big della Musica che è passata attraverso le note coinvolgenti di Noemi, Malikaian, Comacose e Big Mama, oltre alla presenza degli inesauribili animali da palcoscenico Piero Pelù ed Edoardo Bennato. Non solo musica, sul palco anche i messaggi profondi del drammaturgo Stefano Massi. e degli attori Neri Marco Re e Michela Andreozzi in una serata accompagnata dall'orchestra sinfonica Rossini e condotta dalla giornalista Monica Sette. L'evento ad ingresso gratuito aveva previsto una capienza di 3500 posti con qualche problema nella gestione dei varchi, visto che la piazza si è riempita con largo anticipo andando ad ammucchiare tante persone alle transenne che poi sono comunque riuscite ad entrare allo show a metà serata, uno show che sarà ritrasmesso in seconda serata su Rai 1 il prossimo 13 luglio.